Purtroppo ogni giorno la cronica nazionale riporta questi femminicidi o episodi di violenza contro le donne. Io facendo un corso di aggiornamento di autodifesa mi è venuto in mente di organizzare questo corso di base, di prima difesa riservato alle donne, proprio perché le donne debbano essere pronte contro queste purtroppo spiacevoli situazioni che si possono verificare. Allora noi nella parte pratica che è la parte in cui c'è lo scontro fisico cercheremo di trasmettere quelle nozioni che vengono estrapolate come dicevo prima da alcune tecniche di arti marziali e vengono poi adattate alla fisicità di una donna e naturalmente utilizzeremo anche alcuni attrezzi che saranno il capsicum cioè lo spray al peperoncino in modo tale che coadiuverà alla forza fisica e quindi di conseguenza cercherà di allontanare il più possibile il pericolo. Dottoressa Simona Prosperi si occuperà della parte mentale e psicologica di questo corso, cioè? Praticamente aiuterò le donne ad acquisire la consapevolezza di come possono utilizzare le risorse mentali ed emotive per poi affrontare quella che è la situazione di violenza perché purtroppo quando poi si è sulla strada e non ci si aspetta l'aggressione si rischia poi di essere bloccati dalla paura quindi si acquisiranno degli strumenti proprio per gestire meglio la paura e per poter difendersi al meglio sia durante l'aggressione che prima per cercare di ridurre proprio il rischio.